Musica Buon pomeriggio a tutti Eccoci qui Contra in quattro Vediamo se riusciamo a portarlo a termine Abbiamo solo due atti da fare Inizio livello Una creatura della palude Si muove a un pesce Sorprese gli eroi col suo aiuto Diede loro una fiala Contenente un po' di magia Sebbene ancora non potessero sfruttarla Seguendo il consiglio Della sirena Amadeus Pontius e Zoia Si fecero strada fino alla foresta Dei mirtilli Buongiorno a tutti Iniziamo questa foresta Di mirtilli Amadeus Sai dire cosa c'è nella fiala? E' un liquido luminoso Chiaramente magico Quanto a cosa faccio? Allora questo lo colleghiamo a questo Poi prendiamo questo Aspettiamo quest'altro Allora di qua Potrebbe esserci qualcosa sotto Chi può dirlo? Chi può dirlo? In effetti non c'è niente sotto L'abbiamo appena constatato Eroi del train Allora Questo Abbiamo bisogno di lui Immagino faremo un altro incontro etico Andiamo dal fratello della sirena Saprà lui cosa farci Ah è vero dovevamo andare dalla sirena Dal fratello della sirena Qui forse dovremmo usare due No No Ah è vero dovevamo andare dalla sirena Qui dobbiamo fare così Ok Questo si rompe Allora, per spostare questo Che abbiamo bisogno di Day Così Voi, lo piazziamo qua Però adesso io direi anche di salire Perché comunque Potrebbe esserci qualcosa qua sopra Infatti Hai trovato una nuova lettera, leggi Caro Ser Ponchius Vi invitiamo al torneo di mangia torte Presso il villaggio Tor Pietra Il villaggio e le torte Non presentano tracce di goblin Se ce ne fossero Siamo stati di voi che li colpiasse La mia trappola Certo, sicuro Che brave persone ci sono a Tor Pietra Allora, qui però Non c'è nient'altro Vai, proseguiamo Io me l'aspetto qui Infatti No Eh, fin troppi Continuo Bisogna abbastare prima quelli sopra Adesso mi organizzo Un'ampo Un'ampo Eh ma sono tutti qui Grazie a tutti Adesso per salire da quello Ok Ok Allora qui Non mi sembrava che ci fosse qualcosa Qua sopra Però mi sa che non possiamo neanche arrivarci No Mentre colleghi la tua corda un oggetto Tiene il tremuto quadrato Allora prima guardiamo cosa sa Quindi esattamente così Questa grappa qua Però se noi alziamo Prosto Ok Ok però Mi scolleghi la corda un oggetto Tiene il tremuto quadrato Però noi potremmo fare Cazzo cos'è E invece Allora vediamo qui Come facciamo a sediare qua sotto No Come lo piglio questo Ah ah Questo viene su Però devo riuscire a metterglielo sotto Quindi non in questa maniera Ah se io faccio Io faccio una cosa così no Per curiosità Prendo Un quadrato Lo piazzo qua Poi con lei No No E poi vado dall'altra parte Se mi fa andare No non mi fa andare Però potrei fare Così Ah che volevo bloccarlo Lì in mezzo Però io potrei fare Anche un'altra cosa Potrei mettere questo qui No Questa 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 Ma cazzo risolvo questo? Sotto non ci passa. Se io riuscissi a scendere qua... Io invece non ho tutto di qui. Sotto non ci passa. Ok. Così abbiamo risolto il problema e non ci siamo 30 anni. Allora, per salire lì... Ah, dobbiamo fare così. Guardate, li posso mettere qua. Mi segui lo schianto del tronco. Ok, ma qua sopra... Potrebbe essere qualcosa... Non credo. Beh, andiamo avanti. Mi lasci vedere la zampa, signor orso. No. 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 Questo aggancio ma non va. Ok. No. 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 Well... No. 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 Niente, dovevamo fare questo. Non so. Ci vuole la sfera. Non ci stiamo fidando un po' troppo di questi spiriti dei vostri. Se non altro, hanno un piano di qualche tipo. Io non saprei neanche da dove cominciare per aiutare il principe, sempre ammesso che lo troviamo. Neanche i maghi. E la loro soluzione è stata rinchiuderlo nelle segrete dell'Accademia. Erano sicuramente involucati, ma il seno di poi è stato un errore. Quindi procediamo a casaccio, sperando che tutto volga per il meglio. Un classico. No. Uh... E' sparito. No, perché poi devi mettere... Ok. 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 Perca miseria. Perca miseria. Perca miseria. Perca miseria. Perca miseria. Perca miseria. Fatica, mamma mia. Allora, qui... Giù non c'è niente. Questa però non lo so. Questa... Questa... Secondo me qua sopra potrebbe esserci qualcosa. Infatti, vedi? Questa... 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 Allora, questo dove pensare... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. mi manca. e... che cazzo... se... questo... e... ... 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 Cazzo a chancla. Grazie a tutti. 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 Potenziamento. Potenziamento. Allora... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No cazzo. 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 Grazie a tutti. 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 Come cazzo fai? Voglio bloccare le cose. Come cazzo fai? Vai fare... Come cazzo... No, perché si è salto? Come cazzo fai? Che cazzo fai? Come 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 cazzo fai? L'hai trovato? Come cazzo fai? 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 Allora... Come cazzo fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai? un sogno poterlo trovare se io vado avanti così lo porto un po' più avanti così no, cade giù ah, signore ci sarà un modo ma c'è questo gancio io non capisco questo gancio non lo capisco non so cosa devo fare qua mi sto pensando se io attacco se io attacco eh, ma tanto poi non ci passo perchè sono incastrato dove l'attacco questo? questo cazzo che l'attacco se lo metto così non ci passo Tiffany è la ragazza con cui ho sempre giocato si è una mia amica è una ragazza che ho sempre giocato sono cinque anni che ci gioco già ogni tanto è bello gioco tutti i giorni però è una ragazza con cui ho passato parecchio tempo meno quattro anni della mia vita su un gioco ahahah poi quest'ultimo anno un po' meno se io lo metto qua così non ci sta se io lo metto così ok però adesso per arrivare lì che cazzo faccio? e faccio un altro di questi eh, ma poi che non lo posso neanche eh no come faccio? oh cacchio così potevo farcela però di avere il momento giusto no vuoi fare la prova del moderatore? si ho visto però il problema è che non c'è nessuno da moderare quello è un piccolo problema perché io non porto i giochi perché non porto i giochi di solito commerciali quindi è difficile che la gente mi segue a meno in questo ultimo periodo rispetto ad anni fa che portavo giochi commerciali e quindi è difficile e quindi è difficile devo trovare proprio persone che gli piacciono le cose un po' più originali ed è difficile trovare persone originali un giorno d'occhio questo Twitch tanto meno allora se io lo metto così non salterò mai però ci posso provare riprovare eh, però poi riprova riprova dammi un cazzo perché qua non si appende neanche quindi sei obbligato ad avere una passerella si è obbligato ad avere una cazzo di passerella qua questo passo si potesse spingere un po' più avanti non so che cazzo devo fare ma... beh, dal prossimo mese farò un po' streamer di un gioco nuovo un po' più commerciale che vedo che molti lo vogliono fare avevo notato quindi può essere che potrei raggiungere un po' più di utenza però esce il 13 maggio e quindi è ancora presto per parlare di questa cosa non posso saltare così un miracolo mamma mia due ore a fare questo cacchio di orsetto basta non mi ci vedete più qua via però... di solito io ho sempre streamato... a parte, vabbè, questo gioco qui ho streamato... a parte genshin perché genshin lo streamo, vabbè, da quando c'è però... prima ho sempre streamato dead by daylight adesso qua come cacchio... eh... 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 non potrò mai salire qua se è tutto coperto però se io faccio così... no... no... questo non ci passa questo è il dato sbagliato ma che cacchio che me lo concella eh... bello... ma dai... tutte le volte mi cancella le cose e me lo cancella... ma che... che due coglioni... così come cazzo gli tolgo sti due peperoni qua... infatti poi al mese prossimo comincerò a rigiocare con Tiffany... eh... appena finisco qui... posso venire... cosa sono... gli obuchi quali sono? gli obuchi... i... non sono quei fiori rosa... devo prima capire qui come funziona... ahahah... così... vai... e adesso? vattene... vattene via... ah... non esce proprio da qui... eccala... è ritornata... vattene via... non esce proprio da qui... Per salire lì, se io facessi una roba tipo così, tolgo quell'altro, questo scende e mi sono incasinato lo stesso. Però potrei mirare col ghiaccio quello. No, 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 col ghiaccio. Eh, però fino là il ghiaccio non si arriva. Oh. Quindi ora... È un nuovo gioco che esce horror per 10 maggio, è presente il film dell'orrore della casa, quello degli anni 80. Esce il gioco di Ash, che è praticamente il protagonista, è praticamente un multigiocatore, si ammazzano zombie, si... Sì, si cercano cose. È un po' tipo, diciamo, un po' sulla scia di Dead by Daylight o di Friday 13. Però è... Però credo che sia più avventura che un surviving, un survivor. Si va in giro per questa città, diciamo, di notte, gotica. Almeno c'è un... Non è un... È uscito un mini trailer, qualcosa del genere, che fa capire un po' com'è il gioco. E non posso salire lì. Questi li possiamo rompere. Non lo fermo. Eh... Come faccio a salire lì? Bella domanda. Qui non sale. Se io faccio... E così... Lei si aggrappa là? Non si aggrappa lì. Se lo faccio così... Ah, di qua non passa, sta stronza di chiave. Io la devo solo spostare. Dai, perché non passi? Un pelino. Quindi non devo salire, in realtà. Devo far scendere quella. Facciamo una prova così, va? Intanto... Smonta questo. Prendi questa. Metti qui. Questo però non ruota. Lei non si appende a quello. Questo coso non scende più di così. E come cazzo fai? Non so se l'hai visto. Si chiama... Ash Evil Dead. Non so cosa fare neanche qui. Allora. Perché se io lo congelo... Questo non viene su, ma... Io per spostare quella cazzo di chiave... Di qua non scende. Questo non si può cancellare. Di qua non passa. Ah, potevo portarlo ancora più su. Allora, forse ce la facciamo. Eh, però poi... Però poi sto cazzo, perché quello non va su... Potrei provare io? Fatemi provare a occuparmene. Non so se tante. Non so se tante. Di qua. Non so se tante. Non so se tante. Così. Se questo cosa stesse un attimo fermo lì, non so come farlo questo. Ma cazzo la piglio sta chiave? Però lei può, penso... Aspetta, piglia sta roba. Lei può fare questo raggio. Che però... Eh, un casino. Se lo ghiaccio questo non si muove più. Vai con la tua cassa, mago. Zoya cara, mostraci cosa sai fare con quella splendida corna. Ho capito che devo usare lei, sì, perché continuano a dirmelo. Però... Non so come usarlo. E quello è il problema. Sennò anche io possa fare una roba del genere. Tipo una cosa così. Sto via. Ma lei, collego questo e collego... Che palle, sto coso. Faccio una cosa così. Non lo posso portare su. Questa c'è... La parla è un problema. Che palle? Questa c'è... Oh yeah Dopo 30 anni Dopo 30 anni Ho capito come si fa Però di qui c'è qualcos'altro E come lo tolgo questo? Ok Grazie a tutti Allora Dobbiamo salire qua Per salire lì Possiamo fare così Oh madonna Questo giro là è più difficile No se io lo blocco come ho fatto prima Con lei Vale Ma te ne vuoi andare Ma potrei fare anche una roba del genere Riesco a staccare questo Tipo una cosa così No Se questo riuscissi a metterlo là sopra Che stesse fermo un attimino Ovviamente non sta Fermo Continuano arrivare i messaggi Per l'altro gioco Allora Facciamo come ho fatto prima Per l'altro gioco Però potrei fare anche una roba così Aspetta Però questo che non gira se non ho il mago Non lo posso fare questo Questa è mia idea Non brillante Però posso fare così Yeeeh Poi qui Porca miseria Ah così scende Ok Ok Questa però non viene su Ah sì Faccio una roba così No Ah no Non si può Neanche così No Che si aggancio Questo a quello Se viene su Dove forse usare la palla Perché Se non viene su Che cazzo faccio Allora Se io aggancio Questo a questo Così Così Potrei fare una roba anche così Allora Ecco Ma non detto Questo gira Cazzo però Allora Allora E prendo Una scatolina La posso mettere qui No Non la posso mettere Sì Non la posso mettere qui Non la posso mettere qui Ok Però di qua Oh yeah Eh ma quella Non la posso mettere qui Non la posso mettere qui Non la posso mettere qui Ok Ok Ora qui Ora qui Tu 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 Questo cazzo Se io salto Se io salto qua sopra Non posso fare niente Non la posso Non la posso Non la posso fare così Lo dorso Si arrampica su di alberi Meglio di me Ah lì c'è della roba Ti metti un cappuccio bianco Ed è uguale a Zoya Ehm bello Difficilissimo sto gioco È più difficile degli altri Allora Per prendere quello Ah non è che ho tante speranze Il problema è che non stanno fermi No Dovete stare fermi Ok Vabbè Almeno questo lo possiamo prendere Ma gli altri Come cazzo li pigliamo Forse salendo lì Eh no è sempre troppo lontano Che cazzo li pigli questi Ce devo pensare un attimo C'è anche un gancio qui E c'è un buco Allora Devo fare Tipo una scala Però lì non ci arriverò mai Allora aspetta Forse con lei Tipo una roba Tipo così C'era un modo Per bloccarlo Che cazzo C'era un modo che non mi ricordo In questo esatto momento Che l'ho fatto prima Ah ok Ah ok Con questo lo alzo Però non sta su Come faccio a farlo stare su? Perché qui per forza lo devo far stare su Eh Lo metto così Come faccio a prendere quelli Ma porca miseria Sì ho visto che ci sei E che io che non ci sono Allora Perché qui ci sono dei ganci Allora sicuramente devo fare O delle piattaforme O dei quadrati E fino a qui ci siamo Ci deve essere un modo Perché dopo E' per forza Se sono lì Cioè deve essere un modo per forza Che non è questo il modo Che passa a salire E volare fino a lì Ma Non è possibile farlo Perché con il peso Con il peso Non te lo fa fare Non te lo fa fare Non te lo fa fare non me lo fa volare io ho il problema non me lo fa volare che cazzo si faceva oh così ah ma dal gancio qui non me lo fa volare ok quindi questo lo posso portare anche di qua da aggrapparmi di lì ok ah beh questo galleggio qui sotto ho visto qualcosa che lucidava dov'è esserci qualcosa qui che cosa c'era qua uno scrigno che cazzo ci salgo adesso di là si può postare facciamo un tentativo qua no questo è una roba così si riesco a portare questo così eccola allora sto facendo un casino perché devo fare un quadrato qui no però poi non va con la palla questo gancio questo gancio è quello se mi aggrappo qui se mi aggrappo qui spacco niente tra l'altro scusa qua sopra c'è uno scrigno ma questo scrigno scusa mi vado di qui è qui cazzo che mi rimanda su devo andare giù allora arrivare lì è un problema grazie noi facciamo tipo una roba così no poi qui ci metto una palla non lo spacca se io faccio il quadrato ma cazzo lo rompo sto coso ma porca misera posso fare un pezzo tranquillo senza enigmi chiacchie lo rompo c'è anche qualcosa che lucida tra l'altro forse forse non ho idea però questo potere non lo puoi usare non lo puoi usare per qua usato il telefono arrivo pronto? buonasera tutto bene tutto bene lei c'è eh no oggi piove a Milano eh in teoria danno pioggia eh dovrà piovere da dovunque eh pure non ti ho letto una metta si tutto a posto qua pezzo uno pieno più una decina no sei di già già finite e poi dice a me la presa stamattina l'ha già finito sì ma l'hai preso stamattina l'hai già finito eh minchia e poi dice a me sì devi mangiare anche meno certo pausa due tre tre al giorno tanti eh se fumi fumi troppo poi ti viene la cellulite alle chiappe se fumi troppo poi ti viene la cellulite è vero eh già no sì di quale città la città più bella degli italiani tantissimo tantissimo no non bisogna mai festeggiare sì sì oh bene Non ho veramente parole per questo. No, mezzogiorno. No, mezzogiorno, mezzogiorno, mezzogiorno. No, mezzogiorno, mezzogiorno, mezzogiorno. No, mezzogiorno, mezzogiorno. No, mezzogiorno. No, mezzogiorno. No, mezzogiorno. No, mezzogiorno. Ehi! Immagino, immagino che emozioni. Non posso. Non si può. Sono in live. Eh? Non si può, sono in live, va bene. Non posso altre ore al telefono che c'è la gente che mi guarda. Eh? Ciao. Ok, mamma mia che scocciatore. Oggi non c'ho... Adesso sono impegnato qui. Allora. Come cazzo ci arrivo di qui? Bella domanda. Nell'attesa mi accendo una sieretta. Perché lì, purtroppo in quella zona lì, mi faccio male. Io lo sapevo che quel pezzo di prima, comunque, bisognava fare così. Di mandare la palla. Allora. Costudiamoci quest'altra parte qui. Io fino là non ci arrivo. Se io metto questo, si rompe. Ma se collega qui alla... Sarebbe una figata poter fare così, il gioco è fatto. Eeeh... Una sca... Una palla. Però la palla... Eh, ma poi quando arrivo lì... E si rompe. Però se io metto questo qui, no? Metto questo qui. No, ci sono la segretà per finta. Allora. Se io metto questo qui, no? Mi metto la palla... E la palla... La palla. La palla qui. Mi ci rotolo sopra. Mi rotolasse. Vabbè, mi ci rotolo sopra. Quella va giù. Deve fare dei tentativi. Eh, il problema è che... Poi di... Mi fa questo gioco qua. Se non che io arrivo con la palla fino qui. Lancio il coso e torno indietro. Facciamo un'altra prova. No. Faccio di restare un modo. Secondo me, è proprio così. Oppure ratolo fino a qui. Eh, però poi qui? Ok, fatto. Ma allora sono un genio. Allora... Qui... Questo è da rompere. Questo è da spostare. E come cazzo lo sposto? Questo lo metto qua. Questo lo metto qui. No, qui serve una palla. Eh, un quadrato. Così. Così in teoria dovrebbe rimanere incastrato qui. E io posso passare. Questo lo faccio passare qua. Oh yeah. Ora. Eh, la madonna. Sicuramente così. Questo così. Ok, ma adesso di chi cazzo ci arriva? Però se io faccio così... Faccio questo cazzo. Sto scaricando pure il joystick bene. Ok. Però qua sopra può darsi che ci sia qualcosa. Ok. 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 Non c'è niente. Troppi, troppi. No, non, 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 non. Ho provato Ok Ho rischiato qui Allora Eccola Per arrivare di qui Per arrivare qui Cosa attacco La palla La palla La metto qui come prima Eh, però poi di Grazie, ci vado C'è un'altra palla Da sopra non si aggancia Saltare Non salta Oh, oh che mi inquadra quello che mi inquadra Oh, signore. Allora... Ah, che cos'ietta. Ah, yeah. Grazie a tutti. No. Che non lo so? No. No. Volevo fare una cosa così. Oh yeah. No. No. Meglio che rimanga nel bosco, eh? No. 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 Oh qua non c'è niente Ok Niente dobbiamo scendere Perché boh a me sembrerà strano Magari è proprio una scelta di gioco Cioè questa carrucola Con quel fiore Attimo è che mi stiracchio Secondo me dobbiamo scendere Vaffanculo Andiamo Non c'è niente Andiamo avanti Questa sembra tipo la casa di Winniepoo Questo è il fratello della Grazie per aver aiutato i nostri amici della foresta In cambio Vi darò un po' della mia magia Grazie Ma non è abbastanza per spezzare la maledizione del principe Per farlo dovrete completare la pozione Cercate mia sorella maggiore Nella foresta delle pade Grazie infinite signora Ok dobbiamo cercare la sua sorella Quindi sono tre fratelli Due sorelle e un fratello All'improvviso il nostro Trofeo guadagnato Forse abbiamo preso Abbiamo un punto disponibile però No in realtà non ce l'abbiamo Triple evocazione Eh magari questo mi sarebbe utile Ok Ok ma qui non c'è niente Qui sotto No In cima? Perché in cima? Non sarebbe più comodo se invece scendeste voi Nessun problema Forza saliamo Acqua? Non c'è niente Ok lì c'è sicuramente qualcosa Da fare con l'acqua Così dico Così cade però Così c'è niente Così c'è niente Così c'è niente Non c'è niente Non c'è niente o Allora, se io mi metto una scatola di... Allora, qui arriverà fino a qui se ci metto due cose... Ah, forse ho capito... Non ci fa questo... Che cazzo faccio qui? Ok, però non ho niente dove metterlo, se non mi da... ...una sfera o credo che possa stare lì? Ah, però c'è il gancio qua! Allora... Incontrare un filiale così... No, se faccio così che combino Magari se io faccio Tutto giù questo Questo lo metto così Non ci arriva Neanche per culo Ora se lo faccio dall'alto Se sposta questa porta No, se faccio Ok, ce l'abbiamo fatta Questi fiori mi tornerebbero davvero utili In certi miei progettini Purtroppo non penso che tagliandoli durerebbero a lungo Aspetta Non ti stai riferendo a scalare i tetti e le mura di notte, vero? Ha, 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 ha Sotto perché c'è questo gancio Anche se moriamo Non c'è niente Questa è morta per niente Poi qui Abbiamo ricevuto notizie preoccupanti Riguardo allo svolgimento della vostra missione La foresta è stracolma di incubi E sembra che quegli orrori non accennino a diminuire Vi prego di triplicare i vostri sforzi Nel riportare quanto prima il principe Selius all'accademia astrale Ok Ora per fare quello E lì vedo che c'è un fiore E lì vedo che c'è un fiore E lì vedo che c'è un fiore Ok Ok E lì vedo che c'è un fiore Adesso c'è qualcosa però Faccio qualcosa E lì vedo che c'è un fiore 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 Ok. Qui sotto sono morto, non c'è niente. Dobbiamo abbastare un po' quello. Non sali lì, forse... Vediamo un punto disponibile. Ma non è vero! C'è un altro. Non abbiamo punti disponibili. Sì, abbiamo questo, ma... Quasi disponibile. Allora... Non è che c'è qualcosa qua sotto. Mi butto così... Mi salvo ogni... Dubbio. E lì qua. Non è vero. Ok. Per mandarlo lì... Non è vero. È vero. Non 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 è vero. Ok. Mamma mia Un attimo solo Mangio una caramella Non ne ho bisogno Minchia sto gioco Qui sotto C'è qualcosa Porca miseria Non riesco a direzionarli Guarda questo sotto Trovate un'altalena Ma sai che cacchio servono tutti questi oggetti Nuova chiave Trovate il menu principale Ma porca miseria Lì c'è dell'acqua Ma Mi cazzo lo faccio qui? Spero non ci sono ganci Ma se io faccio una roba così Lì ci metto uno di quelli Ma lì non ci arriva Mio Mio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Allora... Allora... L'ho ligata qui però... Allora... Allora... Forse no perché andrebbe messo quello di là... Qua... Allora... 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 Ok... Allora... Per fare questo... Allora... 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 Sì, è vero. Zoya, potresti usare di nuovo la corda fatata? Grazie per la visione! Non funziona Mi cazzo si usa la corta patata L'oggetto legato a un capo della corte di Zoya diventa leggero come l'aria inizia a fluttuare Terrenzialmente posso evitare un problema senza me La corte di Zoya La corte di Zoya Zoya potresti usare di nuovo la corda patata? La corte di Zoya La corte di Zoya La corte di Zoya La corte di Zoya Zoya Cazzo si usa sta corda patata? La corte di Zoya La corte di Zoya Buongiorno Buongiorno Mi sono bloccato qua Non so capire come aprire quella cazzo di porta Zoya La corte di 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 Zoya Palle che me lo cancella Ma me lo devi cancellare Palle che me lo cancella Ok e adesso Palle che me lo cancella 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 Ecco perché vorrei giocare in due Così uno passa E l'altro Poi muore Se faccio una roba così Non lo posso fare là su Palle che me lo cancella Palle che me lo cancella Palle che me lo cancella Zoya Zoya potresti usare di nuovo la corda patata? Palle che me lo cancella Palle che me lo cancella Palle che me lo cancella Allora Allora se muoio E' tutto per vedere Se posso sopravvivere Palle che me lo cancella 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 Grazie a tutti. Cazzo, ci arrivo qua. Se no la facciamo più avanti, eh. È impossibile, potremmo si rivelata a cazzo. Sì, non ci sono altre cazze. Ehi, che cazzo c'è? Sì, che cazzo 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 cazzo. Sì, che cazzo 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 cazzo. Grazie a tutti. 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 Questo mi prende quello, ma non questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma tutto questo solo per questa cosina, questa merdina qui? No, raga, tutto questo per questa merdina qui? Grazie a tutti. Cioè, tutto questo per quel cacchio di fiore? Siamo pazzi? Yeah. Ah... Giunti sonno. Vado a prendere un attimo qualcosa da scranocchiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che buono è l'uovo. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Grazie a tutti. Non sa perché non riesco a fare questo cacchio di potere di lei. Non c'è sempre questo. Non c'è sempre questo. Non c'è sempre questo. Non cazzo lo faccio. Opzioni. Comandi. Allora, coro, soglia, coro, allunga, corda. Corcia, corda, allunga, corda. Sì, ma non è quello che devo fare io. Allora... giù se sei... ... Allora io faccio una cosa così Che bassa Ma porca miseria E' ora di finirlo su gioco Più complicato sta cosa di lei E' ora di finirlo su gioco E' ora di finirlo su gioco Amadeus e Zoya Ebbero un'idea di cosa fare dopo E' ora di finirlo su gioco E' ora di finirlo su gioco E' ora di finirlo su gioco Cazza faccia E' ora di finirlo su gioco C'è un piccolo problema Lanciare da sua corda fatata E' ora di finirlo su gioco 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 Zoia cara Mostraci cosa sai fare Con quella splendida corda fatata Metti una cassa qui E' ora di finirlo su gioco 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 Oh, vabbè, proviamo così Che devi fare Alla prossima Lassù puòarsi che ci sia qualcosa E questo? Alla prossima 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 Alla prossima